Stand BQ, siamo davanti all'Aquaris X5 Plus, display da 5 pollici, full HD, 440ppi, mosso da un Qualcomm 652 Octa-Core e 16 GB di storage interno, espandibili tramite microSD, 2 GB di RAM, Adreno 510, la fotocamera posteriore è da 16 megapixel, capace di riprendere in 4K, la frontale è da 8 megapixel, la back cover che abbiamo visto non è removibile, la batteria è da 3100 mAh, il peso è di 510 grammi, è un telefono dalle linee piuttosto pulite, non è sottilissimo ma è veramente carino. All'NFC, sebbene sulle specifiche si è indicata la presenza del senzore di impronte digitale, in realtà BQ non ha ancora fatto in tempo a provvedere a questi dispositivi del lettore, ma ci hanno già anticipato che probabilmente verrà inserito sulla parte posteriore dello smartphone. La microSD è inseribile all'interno di questo cassetto, mentre nell'altro cassetto, che è questo che vi sto mostrando in questo momento, possono essere inserite due SIM, quindi due SIM su un unico cassettino.